CONDANNA IN BLOCCO Nel secondo libro dell'Eneide si legge Ab uno dice omnes Da uno impara a conoscerli tutti Si riferisce alla condanna in blocco di un popolo per la sua slealtà e la sua perfidia Perché? Commento Perché si appartiene ad un popolo non a caso ma per l'affinità dei propri codici con la media dei codici degli appartenenti a quel popolo